Benvenuti in questo nuovo video Anticipazioni di Pelosetti del Paradiso delle Signore dal 25 al 29 marzo 2024. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali del Paradiso delle Signore. Lunedì 25 marzo, Vito e Maria hanno ritrovato la loro relazione, ma Maria si trova ancora attratta da Matteo. Nel frattempo riceve un invito da Defoe per incontrarsi a Parigi. Mentre la settimana di Pasqua si avvicina, il Paradiso si prepara per l'evento. Alfredo desidera installare il nuovo cambio sulla bicicletta di Clara per la prossima gara. Tuttavia, Clara è scettica poiché il cambio non ha ancora ricevuto l'approvazione ufficiale e non può essere utilizzato in una competizione regolare. Per ottenere l'annullamento del loro matrimonio, Marta e Vittorio devono rivedersi e rivivere i momenti salienti della loro storia d'amore. Tuttavia, Marta non sembra entusiasta all'idea. Martedì 26 marzo, Irene e Clara esprimono il loro entusiasmo verso Maria per l'opportunità parigina. Allo stesso tempo, Roberto propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market, incentrato sul mondo femminie. Rosa considera di intervistare Adelaide, sperando di ottenere il consenso della contessa. Salvatore vede le sue speranze di riconquistare Elvira svanire sempre di più, mentre lei inizia ad avere problemi con Tullio. Nel frattempo, la procedura di annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio si rivela più complicata del previsto. Nonostante la loro frequente interazione, Marta decide di trattenere i suoi veri sentimenti. Mercoledì 27 marzo, Elvira inizia a dubitare della solidità della sua relazione con Tullio. Rosa ottiene un'opportunità per intervistare Adelaide, nonostante i tentativi della contessa di sminuirla. Vittorio sceglie di non rivelare completamente la verità alla Frigerio riguardo al suo incontro con Marta, mentre Conti fa una visita improvvisa alla ex moglie. Nel frattempo, Maria è tormentata dai sensi di colpa, ma trova il coraggio di condividere con Vito le sue intenzioni riguardo alla proposta di Defois a Parigi. Giovedì 28 marzo, Offer invia le bozze dei contratti, il che spinge Marcello a considerare un viaggio in Germania per esaminare la situazione di persona. Tuttavia, Umberto viene a conoscenza di questo piano e deve intervenire per gestire la situazione. Crespi e Alfredo si trovano nuovamente in contrasto, non solo a livello emotivo ma anche sul terreno sportivo. Silvana, madre di Matteo, comunica al figlio due notizie importanti, la sua pronta guarigione dopo l'operazione e il suo imminente ritorno in città. Nel frattempo, Maria confida a Irene un cambiamento significativo nei suoi sentimenti verso Vito. Venerdì 29 marzo, Salvatore consegna alle veneri delle uova di cioccolato come dono pasquale da parte di Conti. Con una sorpresa speciale pensata appositamente per Elvira. Umberto monitora da vicino Matteo, preoccupato che il suo piano possa andare in frantumi. Leonardo continua a corteggiare Irene, attirando l'attenzione di Alfredo. Questo irrita perico, che è tentato di rischiare qualcosa. Salvatore suggerisce a Matteo di organizzare un rinfresco in caffetteria per accogliere Silvana. Matteo segue il consiglio e, travolto dall'emozione, si dichiara a Maria. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 25 al 29 marzo 2024. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.